Dal Vangelo secondo Luca Una buona domenica a tutti. È riferito spesso nei Vangeli che Gesù accettava gli inviti a tavola. Ma li accettava da tutti senza distinzione. Lo troviamo infatti seduto a mensa con i pubblicani e i peccatori ma anche con gli iscrivi e con i farisei. Gesù era una persona che amava stare con la gente. Non ci venne spontaneo immaginarlo a mangiare da solo seduto a un tavolino di un ristorante. E difatti il pasto, lo sappiamo, è il momento dell'incontro, dello stare insieme perché durante il pasto si condividono gli ideali, gli affetti, le esperienze. Si crea amicizia. Oggi purtroppo lo sappiamo che il cibo è preso spesso in solitudine per motivi di lavoro perché si affretta. Ma questo non è molto bello perché si perde il clima della fratellanza, della comunicazione che sono legate proprio al fatto di prendere il cibo insieme. A tavola si comunica. Come oggi, anche al tempo di Gesù, chi era invitato a un banchetto sapeva che doveva attenersi alle norme del Galatteo. Quelle norme che sono proprio di ogni cultura, che divergono da un popolo all'altro. E ci sono nel libro del Siracide due capitoli, il 31 e il 32, che sono dedicati proprio al Galatteo a tavola. Vi consiglierei di leggerle perché sono gustosissime queste disposizioni che vengono date. Per esempio, si dice stai attento quando sei a tavola dove uno mette gli occhi e dove uno mette gli occhi tu non mettere le mani. E poi ancora dice quando sei a tavola giudica le esigenze del prossimo dalle tue. Mangia da uomo, non masticare con voracità perché altrimenti ti renderesti odioso. E poi riguardo alle conversazioni a tavola. Si rivolge al giovane e gli dice tu giovane stai attento. Parla soltanto quando sei interrogato e al massimo un paio di volte. E poi comportati come uno che sa ma che taci. Ecco, erano le norme del Galatteo di quel tempo. Ma poi c'era anche la disposizione dei posti a tavola che era molto importante. I primi posti dovevano essere riservati alle persone ragguardevoli, le quali dovevano essere servite per prime così potevano scegliersi cibi migliori. E poi c'era come oggi il problema degli inviti. Chi si poteva invitare a tavola al tempo di Gesù bisognava fare molta attenzione di non mettere insieme gente incompatibile. I farisei non potevano stare con i pubblicani e con i peccatori. Gli iscrivi non si sarebbero mai seduti a tavola insieme con dei pastori. Quindi gli inviti dovevano essere fatti con molta attenzione e molta cura. Oggi Luca ci presenta uno dei tanti banchetti ai quali Gesù ha partecipato. Sentiamo anzitutto quando e da chi è stato invitato. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. È sabato e dopo la celebrazione della liturgia nella sinagoga tutti tornavano alle loro case per il pranzo e a questo pranzo era consigliato di invitare i fratelli, i parenti, gli amici, i vicini e l'ideale era quello di riuscire a invitare il rabbino che aveva presieduto alla celebrazione della liturgia della parola perché così potevano a mensa continuare a riflettere sul brano biblico che era stato spiegato nella sinagoga. Gesù ha accettato l'invito di uno dei capi dei farisei. Sono già tutti seduti a tavola secondo le gerarchie che sono definite dalla tradizione quale stabiliva chiaramente come dovevano essere assegnati i posti. Al centro c'era il padrone di casa con le persone ragguardevoli e certamente in questo caso Gesù era accanto al padrone di casa. Poi via via tutti gli altri disposti ai tavoli in considerazione della loro posizione sociale della funzione religiosa che svolgevano poi della ricchezza naturalmente e infine anche dell'età. Il testo dice che dopo che si sono seduti stavano ad osservarlo e il termine greco che viene impiegato è paratereo e che significa lo tenevano sotto controllo tenevano d'occhio Gesù. Come mai tenevano d'occhio Gesù seduto a tavola? Sono dei farisei e sanno che Gesù non si atteneva al galateo dei farisei. Era una persona un po' sospetta perché il galateo dei farisei prevedeva le purificazioni Gesù non era un fanatico di purificazioni e poi avevano paura soprattutto che a tavola si aprissero dei discorsi che potevano essere sconvenienti non perché volgari ma perché c'era da aspettarsi che Gesù facesse qualche considerazione riguardante i suoi amici i pubblicani e i peccatori. Allora Gesù andava tenuto sotto controllo durante quel pranzo. Dovevano essere pronti a contraddirlo partendo da citazioni bibliche. Beh, io direi che questo capo dei farisei doveva saperlo chi era Gesù e che invitare a tavola Gesù era sempre un grosso rischio poteva mandarti di traverso il pranzo. Bene, questo banchetto che si è svolto in una casa della Palestina come mai Lucca ce lo riferisce? La ragione è che Gesù a un certo punto ha messo in discussione proprio le norme del Galatteo e ha cominciato a parlare del Galatteo che deve essere osservato in un altro banchetto quello di cui il banchetto che ha avuto luogo lì in Palestina era un'immagine quello aveva un certo Galatteo e Gesù adesso comincia a fare riferimento a un altro banchetto nel quale deve essere messo in pratica un Galatteo molto diverso per cui il pranzo in casa del Fariseo non è altro che una cornice artificiale per parlare di come ci si deve comportare nella comunità cristiana che è immaginata che è immaginata come un insieme di fratelli che si riuniscono per condividere un alimento sentiremo infatti Gesù adesso che stabilisce in modo chiaro e dettagliato le nuove norme da osservare e chi non si attiene a queste norme deve ritenersi fuori del banchetto sentiamo come Gesù vuole che ci si comporti nella comunità diceva agli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti quando sei invitato a nozze da qualcuno non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedigli il posto allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto invece quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato diceva agli invitati una parabola vedete che il banchetto cui Gesù ha partecipato adesso diventa una parabola che è rivolta agli invitati il termine invitati è molto importante perché il termine greco è che clemenus i chiamati sono i chiamati a entrare nella comunità dei discepoli di Gesù nel regno di Dio e si rivolge quindi Gesù adesso ai chiamati di oggi cioè a tutti noi perché vuole insegnarci il galatteo che ci deve essere dentro questo banchetto dentro questa comunità e qual è il comportamento Gesù nota che scelgono i primi posti in casa del fariseo là dove Gesù ha pranzato in quel sabato questo è impossibile che accadesse perché i posti erano già ben definiti è fra i cristiani fra i chiamati di oggi che Gesù nota che tutti cercano ancora i posti d'onore i i primi posti di fatti a che cosa ambiscono gli uomini ambiscono tutti a salire in alto a sendersi sul trono ad essere serviti per primi e la pulsione è così forte che per soddisfarla gli uomini sono disposti a tutto anche a intrighi a tradimenti a riccatti ricorrono a raccomandazioni ad amicizie queste amicizie che poi vengono anche rinnegate quando non servono più bene i cristiani sono uomini come gli altri provano anche loro molto forte questa pulsione devono prenderne coscienza questa è la condizione naturale quello che una volta chiamavano il peccato originale la condizione nella quale noi nasciamo se non lo teniamo presente rischiamo di sentirci a posto perché siamo dei battezzati andiamo in chiesa ma poi rischiamo di comportarci ancora secondo il galateo che è quello di questo mondo i cristiani adesso ne hanno un altro quello che ha insegnato Gesù e che è da tenersi in questo banchetto cosa fanno i cristiani di oggi nella loro professione si comportano davvero in un modo diverso dagli altri nella vita familiare lì in casa non accade forse che si cerca di farsi servire dagli altri quando ci sono dei servizi molto umili si cerca sempre di addossarli agli altri anche nelle famiglie cristiani tra i vostri figli non accade forse che si litigano a chi tocca portare fuori l'immondizia ecco c'è questo problema anche all'interno della comunità ecclesiana noi lo sappiamo dalla storia della chiesa quante questioni sono sorte a causa delle precedenze della bramosia del potere i titoli onorifici i primi posti ci si è serviti addirittura della celebrazione eucaristica per mettersi in mostra per fare un'autocelebrazione ma stiamo attenti perché questo non accade solo a livello delle gerarchie ecclesiali come forse tutti noi abbiamo pensato si manifesta anche nel contesto dei servizi più umili della comunità riemerge sempre molto subdolo dal profondo del cuore anche nelle persone più impegnate questo desiderio di occuparsi di crearsi spazi di potere per fare un esempio banale se una signora è stata incaricata dal parrocco di tenere a posto i fiori e poi un'altra annota che manca un po' d'acqua e si intromette va lei a mettere l'acqua la prima dice ma quella cosa si intromette a fare sono io la responsabile in fondo è un ritagliarsi uno spazio di potere non è considerato unicamente un servizio umile per la comunità vigiliamo quindi su questa pulsione perché distrugge le nostre comunità e adesso arriva la lezione di Gesù per i chiamati quando sei invitato a nozze da qualcuno prima verità quindi da tenere presente tu non sei il padrone tu sei invitato a questo banchetto da qualcuno quel qualcuno è chiaramente Dio dice Gesù stai a te perché le posizioni in questo banchetto stai attento a quella che tu ti scegli perché poi verranno capovolte se tu scegli il primo posto con molta vergogna tu finisci all'ultimo vergogna nella Bibbia significa una sconfitta cioè stai attento perché se sbagli posizione in questo banchetto tu rischi il fallimento della vita tu se cerchi le grandezze di questo mondo punti non sulla vera grandezza ma sull'idropisia che è una malattia un gonfiore dice Gesù quando qualcuno ti invita tu scegli subito l'ultimo posto c'era un contemporaneo di Gesù un rabbino Rabbi Shinchon il quale diceva sta attento scegli due o tre posti più in basso di quelli che ti aspettano così dopo arriva il padrone e ti dice sali più su che è meglio per te sentirti dire sali più su sali più su piuttosto che venga il padrone a dirti scendi più giù scendi più giù Gesù dice non scegliere un pochettino più su un pochettino più giù non esiste il più su e il più giù esiste il primo è l'ultimo posto non c'è il primo il secondo il terzo no o tu scegli il primo o tu scegli l'ultimo gli uomini istintivamente sono portati ad ambire al primo Gesù dice stai attento tu scegli l'ultimo e questo non per falsa umiltà in passato c'era una spiritualità che suggeriva il depreciamento di sé il sentirsi dei miserabili dei buoni a nulla il considerare l'altro migliore quando non era affatto vero e questo portava a non prendere coscienza dei doni ricevuti da Dio e del dovere di metterli a fruttare al massimo per poi porli a servizio dei fratelli la vera educazione cristiana non deve farci sentire dei buoni a nulla tutt'altro deve farci sentire dei servi attenti ai bisogni del fratello e quindi la vera umiltà è quella di chi è sempre pronto a mettere tutte le proprie capacità tutte le proprie qualifiche a disposizione degli altri è quella di chi è sempre pronto a ricevere ordini da tutti e più sarai bravo e più sarai preparato e saranno molte di più le persone che ti chiederanno un servizio bene perché l'ultimo posto è quello giusto perché è il posto del servo è il posto di Gesù è il posto di Dio è tanto forte questa pulsione a metterci al primo posto che noi abbiamo creato Dio che sta in alto e vuole essere servito l'abbiamo inventato tanto che è dovuto venire a farsi vedere e si è fatto vedere come servo che sceglie l'ultimo posto e se tu scegli l'ultimo posto dice Gesù verrà colui che ti ha invitato che è Dio e ti dirà amico adesso tu vieni in alto bello questo termine amico tu sei in sintonia con i miei progetti la grandezza quindi va cercata ma la grandezza vera che è quella di Dio servire è un verbo molto brutto per noi perché ci richiama la parola servo schiavo e quindi una persona che non è libera in realtà è libero solo colui che serve perché è l'uomo vero quello che è finalmente se stesso e uno è uomo quando ama e quindi quando serve quando è attento al bisogno del fratello è l'uomo che non si mette a servizio è ancora colui che segue i propri istinti quindi non è libero di amare di essere se stesso se non si serve se non si costruisce amore la vita è sprecata per questo Gesù essendo amore non poteva che presentarsi come servo c'è un ultimo argomento che riguarda il galateo del regno di Dio ed è il problema degli invitati chi sono coloro che devono essere serviti sentiamo disse poi a colui che l'aveva invitato quando offri un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio al contrario quando offri un banchetto invita poveri storpi zoppi e ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti Gesù adesso vuole stabilire molto bene chi sono coloro che devono essere invitati e quindi coloro che sono serviti in questo banchetto della comunità cristiana e si rivolge a colui che lo ha invitato chi è? Fariseo non quel fariseo di duemila anni fa il fariseo che oggi organizza questo banchetto della comunità cristiana è il fariseo che è presente in ogni comunità cristiana colui che ragiona secondo i criteri del galatteo antico quello di questo mondo esiste questo galatteo che continua anche nella comunità cristiana che fa fatica ad accogliere le nuove disposizioni date da Gesù per esempio ricordiamo quello che dice Giacomo nella sua lettera supponiamo che entri in una vostra adunanza uno con un anello d'oro al dito vestito splendidamente e poi che entri anche un povero e che cosa fate voi? voi dite al ricco tu vieni qui davanti che tutti ti devono vedere e ammirare e dite al povero invece tu stai in piedi oppure siediti qui come sgabello dai miei piedi quando voi fate queste cose che galatteo state seguendo quello nuovo di Gesù o quello antico Gesù lo sa che il criterio che all'uomo viene istintivo è fare del bene non gratuitamente ma per avere un tornaconto per attendersi un contraccambio e allora questo servizio che viene fatto è agli amici ai fratelli ai parenti ai ricchi che possono ricambiare i favori era quello che accadeva al tempo di Gesù erano famose le havurot cioè quei gruppi circoli confraternite farisaiche nelle quali erano ammessi solo i giusti i puri e si invitavano tra di loro adesso dice Gesù inizia un galateo nuovo è il banchetto della gratuità del servizio dato a chiunque ne ha bisogno non a coloro che mi possono ricambiare nella comunità cristiana in questo banchetto non si può pensare l'interesse e i vantaggi il punto di riferimento è solo il bisogno dell'altro anche del nemico di fatti Gesù dice quando tu offri un servizio banchetto tu devi invitare i poveri gli storpi gli zoppi e i ciechi bene noi abbiamo un po' tutti queste condizioni che sono state elencate quelle di coloro che devono essere serviti chi sono i poveri anzitutto quelli che in questo banchetto sono in attesa che tu di ricevere quei doni che tu hai e che devi consegnare a loro e i poveri ha detto Gesù li avrete sempre con voi per quale ragione perché tutti noi non siamo sufficienti noi abbiamo una ricchezza e una povertà allora la ricchezza è quella che noi dobbiamo consegnare a chi ne ha bisogno e noi stessi essendo poveri ci attendiamo di venire arricchiti da coloro che hanno ciò di cui noi abbiamo bisogno ecco la caratteristica del galateo di Gesù è l'attenzione e il servizio gratuito non presto i miei servizi da coloro dal quali certamente ne ricevo il contraccambio ma io gratuitamente do il mio servizio a chi ne ha bisogno questo è il galateo nuovo poi gli storpi termine greco anapeiroi dal verbo anaperau che significa coloro che tentano di alzarsi un pochettino ma non riescono a reggersi in piedi fanno un passo e poi sono di nuovo bloccati l'abbiamo un po' tutti queste storpiature e allora nella comunità cristiana costoro sono le persone che devono essere servite devono essere aiutate a stare in piedi coloro che non si reggono in piedi ma da tutti i punti di vista anche dal punto di vista materiale hanno bisogno di un aiuto ecco nella comunità cristiana il discepolo autentico è colui che ha attenzione proprio a costoro poi ci sono i ciechi quelli che non ci vedono vanno fuori strada e allora vanno fuori strada non per cattiveria ma sbagliano ecco attenzione queste sono le persone che devono essere servite gli zoppi sono quelli che camminano male e non esclusi dal tempio del Signore perché l'assemblea degli israeliti doveva essere composta solo da gente integra perfetta pura senza difetti bene dice Gesù non ci sono discriminazioni tutti con queste debolezze sono membri della comunità cristiana ai quali bisogna prestare gratuitamente tutta la propria attenzione e il premio quale sarà perché tu non ricevi il compenso da coloro che tu hai servito tu sarai beato dice Gesù perché loro non hanno da ricambiarti è una delle 44 beatitudini che troviamo nel Nuovo Testamento beato perché loro non hanno da ricambiarti beato beato significa complimento che Dio ti fa bravo hai fatto la scelta giusta tu hai indovinato la vita riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti la logica del dono gratuito e rischiosa ti fa sentire agli occhi del mondo un perdente perché tu avresti potuto approfittare dei doni che tu hai e farli pagare quindi ti arricchivi di più agli occhi del mondo che segue un galateo diverso tu sei un perdente Gesù dice tu sei beato chi ama avendo come unico obiettivo la ricerca del bene del fratello ti viene simile al padre che sta nei cieli fa l'esperienza della stessa felicità di Dio perché la felicità di Dio è tutta qui vedere l'altro felice si realizza la promessa di Gesù sarà grande la vostra ricompensa qual è la grande ricompensa siete simili al padre vostro celeste auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana grazie a tutti Grazie a tutti.